Nella scorsa stagione Falcone ha avuto la seconda più alta percentuale di parate su tiri subiti in Serie A. Solo Provedel della Lazio lo ha superato e grazie anche alle sue prestazioni il Lecce ha conquistato la salvezza. Questa volta il 28enne punta più in alto. Ma anche il suo personale sesto senso. E' una cosa che ho sempre avuto un pochettino dentro anche se l'anno scorso lì ho lasciato fare all'istinto e mi è andata bene. Devo dire non l'ha cambiata.